Ci siamo innamorati di una parola, la più bella di tutte, l'unica che descrive qualcosa che non c'è, pace. Ci siamo innamorati di un'idea, l'unica che conta veramente, portare la pace e la non violenza nel mondo. E lo stiamo facendo con la più grande marcia mondiale che l'umanità abbia mai conosciuto. La marcia per la pace e la non violenza. Un percorso che attraverserà oltre 100 paesi, 6 continenti, con la partecipazione diretta di milioni di persone. Un'iniziativa partita dall'ONG Mondo Senza Guerre che ha portato all'adesione di centinaia di organizzazioni e personalità. Tutti al lavoro insieme per un mondo migliore. Dal 2 ottobre 2009, anniversario della nascita di Gandhi, al 2 gennaio 2010, milioni di persone saranno in cammino per creare un futuro migliore. Il nostro. Senza violenza, senza guerra, senza armi nucleari. Un futuro di pace e di non violenza. Innamoratevi anche voi nelle parole equipale del mondo. Metete lindamente. Inseame a noi.